Quattro giorni di dibattiti e incontri con ministri, istituzioni e associazioni, imprese ed enti di formazione sui temi più urgenti per l'agenda politica ed economica del momento. Fino a sabato 11 marzo a Verona Fiere in programma la seconda edizione di Letexpo Logistics Ecotransport organizzato da Alice in collaborazione con la Spa fieristica veronese. Un grande progetto per contribuire a promuovere e valorizzare il trasporto e la logistica e i servizi alle imprese che rappresentano i pilastri dell'economia nazionale, europea e mondiale. Oggi sono molto felice di essere tornato dopo un anno a Verona e già l'anno scorso chiudemmo in effetti una Verona, un grande evento, una Letexpo con grandi numeri e grandi successi. Quest'anno iniziare con la presenza oggi del ministro Salvini in videocollegamento di Lollo Brigida e comunque in attesa insomma 11 ministri nelle quattro giornate, 353 relatori, abbiamo 310 espositori e ad oggi abbiamo già accreditati per oltre 50 mila persone, sono numeri molto positivi e speriamo di arrivare a circa 70-80 mila presenze in questi quattro giorni. L'inaugurazione sul palco di Casa Alice alla presenza del vice presidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e del presidente della regione Veneto Luca Zaia. Il ministro Salvini intervistato dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni ha aperto il ricco calendario di eventi e che ha richiamato anche i presidenti delle più importanti associazioni di categoria del settore e delle autorità di sistema portuale. Modello Veneto, modello Veneto da tanti punti di vista per infrastrutture di qualità, per sostenibilità, per crescita economica, per turismo e le Olimpiadi che la Lega ha fortemente voluto, la Lega quasi da sola, però saranno un'immagine per il Veneto e per l'Italia nel mondo incredibile che porterà miliardi di utili sui territori e milioni di turisti e visitatori. Così dopo il grande successo dell'esordio di Lette Expo che ha sancito una partnership vincente tra Alice e Verona Fiere e che ha visto il trasporto e la logistica sostenibili, protagonisti assoluti di uno straordinario evento fieristico, questa seconda edizione con 310 espositori è destinata a superare nettamente i numeri dello scorso anno quando ci furono 50.000 visitatori. Grandissimo risultato, un grande lavoro fatto da Alice e dagli operatori di Verona Fiere, anche questa manifestazione sta andando benissimo, abbiamo accrediti che superano di gran lunga quelli dell'anno scorso e dunque veramente il successo è grande ma soprattutto anche lo vediamo con la presenza dei rappresentanti di governo che hanno voluto essere presenti a questa manifestazione tantissimi ministri, viceministri, sottoseretari, a dimostrazione come il tema della logistica, il tema dei trasporti sia fra i primi punti dell'agenda di governo ma anche come la Alice e questa fiera riescano ad essere attrattivi e a riuscire a coinvolgere le istituzioni. Lette Expo 2023 mette in rete imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario, terminalisti, spedizionieri, stakeholder e aziende fornitrici di servizi alle imprese, case costruttrici, compagnie assicurative, porti italiani ed europei, interporti nazionali e internazionali, associazioni, operatori della filiera agroalimentare e delle diverse filiere logistiche, player operanti nella categoria delle nuove energie e dei nuovi carburanti ma anche numerosi centri di ricerca e enti di formazione tra cui scuole superiori, ITS e università. Inoltre dopo aver portato per la prima volta in una fiera iniziative e attività estremamente importanti legate all'inclusione, alla solidarietà, allo sport e in generale a quella sostenibilità sociale che è fondamentale, l'ETEXPO porrà ancora una grande attenzione a queste tematiche, a questi valori con un padiglione interamente dedicato ad Alice per il sociale. A mio avviso non c'è sostenibilità ambientale senza quella economica e sociale, motivo per il quale a parte tutte le innovazioni e tutto quello che noi stiamo facendo per proprio cercare di arrivare a essere carbon free nei prossimi anni, va comunque unito a un'attività di sensibilizzazione verso il sociale e noi lo abbiamo fatto con questo meraviglioso progetto di Alice per il sociale che si concretizza anche qui attraverso un padiglione dedicato interamente al sociale.